Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale! Hi everyone, welcome back to my channel! To help people just getting started with Italian, today I'll be simulating a come on beginner level conversation between friends. Ok, let's get started! Ciao Carla! Ciao Valeria, come stai? Non c'è male, tu? Tutto bene? Sì, oggi sono proprio di buon umore! Ottimo! Dove vai di bello? Vado al mare con Matteo, ceniamo in un ristorante sulla spiaggia e poi facciamo due passi in centro. Ma dai, che bello! Ma quindi voi due state insieme? Sì, da circa nove mesi! Questa sì che è una bella notizia! Sono felice per voi! Sono tanto felice anch'io! Senti un po', ti va di andare al cinema domani sera? Viene anche Marina. Marina è la ragazza di Londra? No, Marina è argentina, di Buenos Aires, non ricordi? Ma sì, Marina, la sorella di Marco! No, Marina è figlia unica! La sorella di Marco si chiama Francesca! Valeria! Mamma mia che memoria! Ma certo, Marina, la ballerina è quella che balla il tango benissimo! Dico bene? Beh, sì, finalmente! Allora, che ne dici di aggiungersi a noi domani? Ma sì, dai! Ho proprio bisogno di una pausa! E poi ricordo che Marina è molto simpatica! Una serata insieme ci sta! Benissimo! Allora compro subito tre biglietti! Grazie! A che ora comincia lo spettacolo? Alle 7.30, va bene? Sì, va benissimo! Magari dopo il film andiamo a prendere un gelato sul lungomare! Che ne pensi? Conosco un posto molto carino! Perché no? È la nuova gelateria vicino all'ufficio postale? Sì, tutti i frutti! La conosci? Certo che la conosco! Il proprietario è un amico di mio padre! Ma dai! Ci vediamo domani, allora! Sì, non vedo l'ora! Anch'io! A domani! A domani, ciao! Ciao! I hope you found this conversation helpful! If you're a beginner trying to use it to practice, let me know in the comments down below if you have any feedback. Tell me what you like or what you think it was missing and I'll try and improve it. Thanks for watching! Grazie per la visione! Ciao a tutti! Alla prossima!